Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro! Mi chiamo Alan e sono studente del secondo anno di Scienze dell'Ambiente e della Natura. Mi chiamo Karen e mi sono appena laureata in Informatica Triannale. Il motivo per cui abbiamo scelto questo Ateneo è perché è l'Insubria che ha scelto noi, dandoci la possibilità di coniugare sport e istruzione con una borsa di studio sportiva. Grazie CUS!